Ha presentato una serie di dati molto importanti, con i quali si testimonia una situazione di grande attenzione da parte della provincia di Novare con i centri per l'impiego alla situazione occupazionale. Una situazione occupazionale che comunque presenta, e non ci nascondiamo dietro un dito, una serie di difficoltà e di disagi per molti cittadini, soltanto per capire. A me piace molto parlare con dei dati perché poi, come dire, sono molto più evocativi e chiarificano meglio la situazione di tante e molte altre parole. Ai centri per l'impiego, soltanto nel 2011, si sono presentate più di 19.000 persone, quasi 20.000 persone, contro i 6.000 di quattro anni fa. Ovviamente queste persone, molti cittadini, si presentano non soltanto per chiedere posto di lavoro, ma anche soltanto per avere delle consulenze, dei consigli. Però c'è testimonia quale sia la situazione di disagi e di difficoltà. I nostri uffici sono molto attivi, c'è una grande disponibilità anche in termini di persone e chiaramente anche di disposizione nei confronti di chi cerca lavoro. Però i numeri sono impressionanti. Un altro numero su cui è giusto riflettere è che sono quasi 11.000 le persone o in cassa integrazione o in mobilità. E molte di queste, soprattutto la cassa integrazione in deroga, vedranno finire il loro periodo di sostegno nel 30 giugno del 2012. Da un certo punto di vista è anche giusto essere oggettivi, quindi chiediamo scusa a tutte le persone, a tutti i cittadini nuvaresi che purtroppo non potranno essere aiutati da noi. È anche vero che in un momento di difficoltà come questo bisogna fare quadrato, bisogna essere uniti, quindi non soltanto le istituzioni, ma tutto il mondo imprenditoriale e sindacale per cercare di dare delle risposte a una crisi che ovviamente non è soltanto di carattere locale, ma di carattere nazionale e internazionale. Un ultimo dato, insomma, e forse come dire un elemento positivo, è che comunque la disoccupazione sul nostro territorio è inferiore rispetto alle province e del Piemonte e chiaramente anche di altre realtà nazionali. Ciò chiaramente non ci può consolare e la nostra attenzione è massima, ovviamente è una situazione che dobbiamo cercare di migliorare.